Stanco di lottare in condizioni di scarsa illuminazione? Non farti intrappolare da torce deboli o ingombranti luci da lavoro cablate. Presentiamo la nuovissima Starleaf Do It All Light. La luce da lavoro LED senza fili definitiva, a mani libere, che riempie qualsiasi spazio con una luce brillante e potente, rendendo il tuo lavoro più facile che mai. Il segreto sta nel suo avanzato array di potenti luci LED. Rispetto a una torcia normale, la Do It All Light brilla come una stella. Inoltre, il suo design innovativo, autoportante, ti permette di lavorare a mani libere e la base magnetica, ultraforte, la fissa istantaneamente a qualsiasi superficie metallica per la soluzione di illuminazione definitiva. La Do It All Light ha anche un gancio girevole unico, così puoi appenderla ovunque. Con una potente duratura batteria ricaricabile agli ioni di litio, dura ore e ore. Illumina il tuo garage o capanno degli attrezzi o qualsiasi posto senza elettricità e il design compatto si adatta ovunque per lo stoccaggio. È leggero, portatile e costruito per durare. È perfetto per il cappeggio e la pesca e per le emergenze. Ha anche una funzione di luce stroboscopica. Illumina il tuo mondo con la superpotente Starleaf Do It All Light. Prendi la tua oggi stesso.